del Covid, ma soprattutto grazie a tutti i comandanti e tutti i militari che sono collegati. È molto emozionante, molto emozionante visto da qui, non come lo sia, come ci è capitato in passato, e saluto e ringrazio anche il generale Franco Federici, mio splendido consigliere militare, quando fisicamente ci siamo recati a salutare i nostri militari impegnati. Nelle missioni all'estero, ma è comunque davvero un colpo d'occhio straordinario e voglio ringraziarvi per questa organizzazione, voglio ringraziarvi per le vostre parole, ma sono qui soprattutto per ringraziarvi per il vostro lavoro. Io avrei dovuto oggi essere in Libano per portare gli auguri del Governo e dell'Italia al contingente impegnato nella missione Unifil in un momento particolarmente delicato, purtroppo stavolta, diciamo così, l'influenza ha avuto la meglio in questa difficile settimana e non sono, non ho potuto essere presente, me ne dispiace, lo considero un viaggio semplicemente rimandato, ma sono in ogni caso contenta di avere l'occasione, seppure da remoto, seppure non in presenza, per portare il mio messaggio, il mio saluto ai tanti contingenti che sono qui presenti e per il loro tramite a tutti i nostri militari impegnati fuori dai confini nazionali. Lo scorso anno io ho deciso di dare vita a questa tradizione per la quale a ridosso di ogni Natale ho scelto di recarmi o provare a recarmi, a fare gli auguri a un contingente, ho chiesto ai ministri, al netto del Ministro della Difesa che lo avrebbe fatto comunque, di fare altrettanto. L'ho fatto guardate per una ragione molto precisa, perché il Natale è la festa che per eccellenza celebra la famiglia, perché è la festa che per eccellenza si celebra con la famiglia, è la festa nella quale tantissimi che normalmente lavorano fuori casa hanno l'occasione di tornare a casa. Questo non accade per molti di voi e non accade per molti di voi che non potranno farlo e chiaramente questo è uno dei tanti sacrifici che avete scelto di fare con il vostro impegno, con il vostro lavoro, però sono sacrifici che in fin dei conti celebrano un'altra famiglia, che è quella che Giuseppe Mazzini definiva la famiglia del cuore, cioè la patria. E allora ha un senso che quella patria, che quella famiglia, che è la ragione principale del vostro impegno, in questa occasione sia da voi per dire grazie, per dire che è consapevole dei sacrifici che avete fatto, che state facendo, per dirvi che è consapevole del fatto che rappresentate il suo volto migliore. E guardate, io questa non è una frase che dico, credetemi per piageria. Durante una delle visite che abbiamo fatto in questo anno, in uno dei contingenti militari che erano impegnati all'estero, mi è capitato di fare questa riflessione che voglio provare a condividere oggi con tutti voi. Ed è questa. Voi fate dei sacrifici e, diciamo così, correte dei rischi per difendere la libertà, la sicurezza di persone che neanche conoscete in nazioni che non sono la vostra. Lo fate perché voi sapete che è giusto, lo fate perché sapete che il prestigio e la credibilità che costruite mattone dopo mattone torneranno come strumento essenziale in termini di capacità per l'Italia di difendere e rappresentare i suoi interessi nazionali. Non sono scelte che si fanno per interesse personale, non sono scelte che si fanno per se stessi, perché i sacrifici che voi portate avanti, i sacrifici che vi caricate, le responsabilità che vi caricate, le difficoltà che vi caricate non hanno un compenso adeguato. Sono scelte che si fanno semplicemente quando si ritiene che ci sia qualcosa che è più importante di quello che è importante per noi stessi. Sono scelte che si fanno perché ce lo chiede la nostra coscienza. La riflessione che avevo fatto e che voglio condividere con voi è che a me ha sempre fatto sorridere che si definisse incoscienza quando qualcuno fa una scelta senza prendere in adeguata considerazione le conseguenze che può avere per se stesso. Io penso che invece sia incoscienza vivere una vita rincorrendo cose che non hanno un valore reale e fondamentalmente non hanno un senso. Ma le scelte che si fanno per qualcosa che è più grande e più importante di quello che è semplicemente giusto per noi, quella non è incoscienza, quella è la coscienza. E voi questo lo sapete e lo rappresentate? E se voi siete così e siete così perché altrimenti non sareste dove siete, beh allora io penso che non ci sia nulla di più importante di sentirsi dire un banale grazie quando non è detto con circostanza. E io sono qui per portarvi quel grazie che è il grazie dell'Italia intera, che è il grazie del governo italiano e che è il mio grazie personale. Perché vedo tra i contingenti collegati quello di Erbil dove io sono stata lo scorso anno a portare gli auguri di Natale e in quella occasione molto commovente io ho ricevuto un regalo che rimane tra le cose più preziose che ho, che è una foto, una così vista da lontano è una semplice foto di me e la mia foto istituzionale, no? Con il logo di Palazzo Chigi, la bandiera tricolore, ma se si guarda da vicino quella foto allora cambia tutto perché quell'immagine è composta con le foto di tutti i militari del contingente e ha un significato che per me è preziosissimo. Noi facciamo parte di una cosa sola. Io in quest'anno ho girato mezzo mondo, come si sa, e non c'è stata nazione nella quale mi sia trovata e nella quale non mi sia stato fatto riferimento al lavoro che voi compiete, all'importanza, al ruolo, alla professionalità, alla serietà di quel lavoro, no? Se io posso difendere gli interessi italiani, se io posso rafforzare il protagonismo italiano è fondamentalmente grazie alla credibilità che voi costruite con quei sacrifici. E quindi è molto semplice, il lavoro che fate voi aiuta me a fare meglio il mio lavoro, il lavoro che faccio io deve aiutare voi a fare meglio il vostro lavoro. Ma voi non lavorate per me e io non lavoro per voi. Noi lavoriamo tutti per lo stesso unico straordinario puzzle che si chiama Italia e siccome capiamo il sentimento e il valore che questo comporta è questa la ragione per la quale cerchiamo ogni giorno di dare il nostro meglio. Allora io sono qui per ribadirvi grazie a nome di ogni singolo italiano per quello che fate ogni giorno, sono qui per augurarvi ovviamente un santo Natale che sia sereno, che sia comunque felice nonostante immagino la difficoltà di trovarsi lontano dalle proprie famiglie e sono qui per augurare a voi, a noi, all'Italia intera un 2024 che sia soprattutto un anno di orgoglio per la nostra nazione. Grazie davvero ancora a tutti voi, Buon Natale! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!